Ciao ragazzi e benvenuto a questo appuntamento con Davide Calopsite Vi ricordo, vi rinnovo anzi di mandarmi le fotografie dei vostri amichetti con la luce ancora una settimana e poi facciamo il video quindi se non l'avete ancora fatto affrettatevi vi ricordo che sotto nel box troverete anche il link del gruppo che ho aperto per quanto riguarda i nostri amichetti con la luce questo video lo faccio per un motivo perché molto probabilmente a qualcuno è sfuggito un particolare vieni amore allora vi faccio vedere che vieni Uga aspetta Uga e si vieni e la miseria dai vieni qua allora alcuni di voi mi stanno non mi vedete vero alcuni di voi sale solo la spalla no me sta massacrando alcuni di voi oh ciao bucina meravigliosa creatura innocente creatura innocente alcuni di voi mi stanno chiedendo molto probabilmente è sfuggito un particolare di un video che feci tempo fa mi stanno dicendo per quale ragione la maggior parte delle volte vedono sempre Uga ferma oppure per quale ragione non faccio ferma nel senso sempre sopra la mia spalla oppure per quale ragione non faccio un video dove magari può svolazzare a destra e manca quindi un video dove lei vola allora Uga purtroppo non può volare nel senso che Uga ha un problema dalla nascita io di questo già ne parlai tempo fa su un altro video ha un problema dalla nascita un difetto mazza con questi occhiali se vede me li vedevo ha un difetto dalla nascita alle ali e quindi purtroppo non può volare vedete come le tiene basse le ali è per questo motivo qua ha un difetto dalla nascita un difetto che io già sapevo già conoscevo mi ha fatto la scacaccella pure qua molto bene un difetto che io già sapevo già conoscevo un difetto che non mi ha creato nessun problema tanto che quando me lo disse il venditore a me poco interessava ho detto io ho scelto lei lei ha scelto me quindi io me la prendo indipendentemente dai difetti che possa avere ecco perché quando voi mi dicete eh ma canaggi io volevo il maschio ho preso la femmina oppure oddio forse ha qualche problema la riporto a me è una cosa che non piace non piace perché se dobbiamo comunque scegliamo un animale ci dobbiamo prendere con tutto il pacchetto lì si parla d'amore e quindi non sono d'accordo e io ho questo problema qua ecco perché non non vola ecco perché non gli faccio dei video dove lei vola lei cammina cammina poi vi attacco anche un video che ho fatto cammina per terra la facciamo camminare per terra cammina sulle nostre spalle sta con noi però purtroppo ha questo problemino ed è questo problema che le fa tenere vedete le ali basse facciavolo arrabbiare ed è questo il punto che le fa tenere le ali basse è per questo motivo qua allora tutto qua adesso vi faccio vedere infatti un video dove noi la facciamo camminare come giusto che sia una cosa che io faccio ogni tanto povera figlia è per dire ad esempio la prendo gli allargo delicatamente le ali qua comunque cerco un attimo di fargli come stilacchiare le ossicine delle ali ovviamente in maniera estremamente delicata per farla anche un attimo sgranchire però è raro perché solitamente lei comunque le apre e se lo sistema da sola però ha questo difetto qua purtroppo dalla nascita ma noi vogliamo tanto bene lo stesso è vero Uga non ci interessa anche tu hai diritto ad avere tanto amore tanto amore è vero tutto qua ci vediamo al prossimo video fate i bravi ma non troppo ciao vi ricordo che sotto nel box trovate il gruppo che ho creato su facebook e vi ricordo che ancora per una settimana potete mandarmi le fotografie delle vostre gabbiucche dopodiché facciamo il video ciao alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.